cosenza e baby pillonna i saluti un mercoledì sera senza interessi calcistici dovuti a fatti notori e ben più gravi riporta per un attimo l'attenzione sul mondo sportivo con l'addio del tecnico trevigiano alla panchina rosso blu una sola vittoria all'esordio sul campo del livorno e solite difficoltà di un cosenza quasi con un piede in serie c semmai quel questo campionato volgerà al termine da fine aprile in poi lo stesso pillonna dichiarato dopo un'attenta riflessione un confronto diretto con la società cosenza calcio in maniera consensuale abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto di lavoro in questo periodo di difficoltà per l'italia il mio pensiero e la mia preoccupazione è rivolta alla salute mia della mia famiglia ma anche a quella di tutti gli italiani questo ovviamente ha portato a fare delle scelte non dettate dalla mia passione per il calcio dalla mia dedizione al lavoro ma guidate dal buonsenso e dalle problematiche che stiamo affrontando qui in veneto risulterebbe inoltre ingestibile la distanza treviso cosenza data la situazione attuale che l'italia sta attraversando ringrazio la società lo staff i giocatori e tutte quelle persone che collaborano con il cosenza calcio per la disponibilità nei miei confronti ora per la scelta del sostituto sono due le opzioni il ritorno di piero braglia o la promozione del secondo allenatore roberto chiuzzi da francesco sarri è tutto